Melanie Klein, Invidia e Gratitudine, 1957, capitolo terzo, parte prima. Per chiarire meglio l'argomento che sto trattando, penso sia necessario esporre in breve le mie teorie sul primo io. Ritengo che esso sia già presente all'inizio della vita post-natale, anche se in forma rudimentale e ancora privo di coesione. Già nel primissimo periodo di vita, l'io esplica molte funzioni importanti. Può darsi che questo primo io si avvicini molto a quello che Freud chiama la parte inconscia dell'io. Freud non pensava che l'io potesse essere già presente alla nascita e aveva attribuito all'organismo delle funzioni che, secondo me, possono essere esplicate solo dall'io. La minaccia di annientamento dall'interno, per opera della pulsione di morte, secondo il mio punto di vista, che in questo differisce da quello di Freud, è l'angoscia primaria. È dell'io che, al servizio della pulsione di vita, chiamato in causa forse dalla pulsione di vita stessa, deflette in parte la minaccia che ne deriva verso l'esterno. Io, invece, considero questo processo come la prima attività dell'io. Vi sono delle altre attività iniziali dell'io, le quali, secondo me, derivano dalla necessità impellente di affrontare la lotta tra pulsione di vita e pulsione di morte. Una di queste è la tendenza all'integrazione che nasce dalla pulsione di vita e che si esprime nella capacità di amare. La tendenza opposta dell'io a scindere se stesso e gli oggetti è dovuta in gran parte alla grande mancanza di coerenza dell'io al momento della nascita e, in parte, al fatto che ciò costituisce una difesa contro l'angoscia primaria ed è quindi un mezzo per proteggere l'io. Per molti anni ho ribadito l'importanza di un particolare processo di scissione, la divisione del seno in oggetto buono e oggetto cattivo. Io ritengo questo processo un'espressione del conflitto innato tra amore e odio e dell'angoscia che ne deriva. Vi sono tuttavia altri processi di scissione che coesistono con questa divisione ed è solo di recente che alcuni di essi sono stati capiti più a fondo. Ho scoperto, per esempio, che l'io, mentre interiorizza in modo avido e vorace l'oggetto e, in primo luogo, il seno, frammenta in vario grado se stesso e i suoi oggetti, ottenendo così una dispersione degli impulsi distruttivi e delle angosce persecutorie interne. Questo processo, che non ha sempre la stessa forza e che determina il grado di normalità dell'individuo, è una delle difese della posizione schizoparanoide che permane, secondo me, sino al terzo o quarto mese di vita. Non voglio con questo affermare che il neonato durante quei mesi non sia in grado di godere pienamente il cibo che riceve, il rapporto con la madre e frequenti momenti di benessere fisico. Ma ogni qualvolta sorge dell'angoscia, essa è, a mio avviso, principalmente di natura paranoide e le difese contro di essa e i meccanismi usati sono prevalentemente schizzoidi. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per la vita emotiva del bambino nel periodo caratterizzato dalla posizione depressiva. Ritorniamo ora al processo di scissione che, secondo me, è una premessa importante per il mantenimento di una relativa stabilità nel bambino piccolo. Durante i primi due o tre mesi di vita, il bambino tiene separato l'oggetto buono da quello cattivo e così facendo, in fondo, lo conserva e accresce la sicurezza dell'io. Nello stesso tempo, questa prima divisione è possibile solo se c'è un'adeguata capacità di amare e un io relativamente forte. Secondo la mia ipotesi, la capacità di amare promuove sia le tendenze all'integrazione sia l'ascissione primaria ben riuscita tra oggetto amato e oggetto odiato. Tutto ciò sembra paradossale, ma poiché, come ho già detto, l'integrazione si basa su di un oggetto buono profondamente radicato che forma il nucleo dell'io, una certa dose di scissione è essenziale per ottenere l'integrazione perché questa protegge l'oggetto buono e più tardi mette in grado l'io di sintetizzare i suoi due aspetti. L'invidia eccessiva, che è l'espressione degli impulsi distruttivi, intralcia il costituirsi della prima scissione tra seno buono e seno cattivo, impedendo la strutturazione di un oggetto buono. Vengono a mancare perciò le basi per un completo sviluppo e una piena integrazione della personalità adulta e inoltre le successive differenziazioni tra buono e cattivo sono in vario modo disturbate. Nella misura in cui queste difficoltà di sviluppo sono da attribuirsi a un'eccessiva invidia, esse dipendono dal prevalere nei primissimi stadi della vita dei meccanismi paranoidi e schizzoidi che, secondo la mia teoria, costituiscono la base della schizofrenia.